Non sarà facile, non lo sarà mai, più delle volte vi ritroverete da soli, ma dovrete continuare a tenere duro. Io vi supplico, non arrendetevi mai alla mediocrità, come il 98% del mondo, perché è certo che farete a voi stessi e al mondo un grave torto. Grazie per la visione!